buongiorno a tutti benvenuti nel mio canale oggi parliamo di un esemplare di peugeot molto particolare sto parlando della peugeot 607 paradin si tratta di una limousine fatta apposta per l'eliseo francese ovvero per i capi di stati francesi che cosa di particolare ha il fatto che come potete vedere dall'immagine che vi lascerò attaccata qui da sta parte qua che ha un enorme tetto elettrico che scopre i posti gli ultimi due posti diventano così sia una limousine chiusa protetta non so se è brindata ma allo stesso tempo anche una cabriolet per salutare la folla farsi vedere è così allora parliamo un po di storia scusate se abbasso lo sguardo degli appunti qui sotto questa per chi per chi conosce anche la storia dei capi di stati francesi questa è stata realizzata per accompagnare le uscite del presidente jacques chiroc e nicolas sarkozy a nicolas sarkozy scusate la pronuncia non so francese insomma questa è un vettura che è stata prodotta nel 1999 è cioè ha iniziato la produzione nel 99 l'hanno finita l'anno dopo intorno al 2000 l'intento era quello proprio di fare una auto degna del prestigio francese racchiudendo al suo interno tutto il massimo che i marchi o della peugeot poteva dimostrare sfoggiando il proprio orgoglio sfoggiando nelle cerimioni ufficiali non come ad esempio sta succedendo qui da noi in italia dove il nostro presidente della repubblica del consiglio non stanno più girando con vetture a marchio italiano che poi non vengono neanche più prodotte in italia ma preferiscono usare le audi insomma questa vettura venne presentata nel febbraio del 2020 ed è lunga circa 5 metri la berlina normale su cui è basata sarebbe 4 metri e mezzo quindi quasi la metà in più era una milaglia fatta con l'intento di essere molto elegante raffredata ecco la livrea blu celeste è una livrea che valorizza i suoi tratti e che è un colore molto predominante nella casta politica basta ricordarsi il fatto che c'era l'auto blu italiana blu come il colore di rappresentanza che ha quel tipo di macchine e il tipo di persone che vengono trasportate su di esse insomma questo è un esemplare unico l'unico anche in quegli anni perché gli altri capi d'estate non avevano delle vetture simili a questa e neanche paragonabili appunto come ho detto all'inizio del video il merito di questo fatto che non era paragonabile agli altri era il fatto di questo bellissimo tetto realizzato in acciaio e in vetro che si apriva in maniera elettrica scolperchiando gli ultimi i due posti posteriori e questo tetto andava perfettamente a riposare cioè a ripiegarsi nel bagagliaio è un meccanismo simile che possiamo ricordare quello del 206 cabrio o come abbiamo visto gli anni successivi con la 307 cabrio che praticamente una parte del tetto si smonta completamente dalla loro vettura e si ripone nel portabagaglio è una parte del tetto fisso quindi non stiamo parlando di tela perché dobbiamo ricordare che comunque deve avere una certa robustezza per lo scopo che aveva questo tipo di macchina poi questa macchina montava le cerchi del 18 pollici con dei pneumatici non tanto importanti direi comunque stiamo parlando sempre di 18 pollici che erano il 235 e 45 di spalla e il 18 di diametro come già detto da notare che mi metterò la foto anche di questo come era l'abitacolo internamente c'erano queste rifiniture in pelle blu sempre richiama cavalca questo colore rappresentativo e poi i sedili insomma di prestigio in coda avevano lo schienale che insomma e allora i sedili quelli di prestigio quelli dove dovevano tenere come la persona che veniva trasportata che è il capo di stato in questo caso che erano anche sedili che venivano scorpecchiati dal tetto che si muoveva erano con uno schienale completamente regolabile elettricamente e la possibilità anche di memorizzare la posizione proprio un vero lusso considerando stiamo comunque parlare di una vettura del 2000 oltre a questo c'era addirittura anche una regolazione assistita per i poggi a testa anche i poggi a testa erano regolabili elettricamente oltre a tutto questo dell'iniziamento di lusso tra il sedile che era regolato elettricamente e l'appoggio a testa anche se che io sinceramente non ho mai sentito di una vettura che avessi poggi a testa elettrici c'era un sforzoso solito console centrale che era un bracciolo un bracciolo che era suddiviso cioè era individuale e anche un appoggio a piedi tutto regolabile davanti a queste due poltrone che erano lavorati da un cuoio in tonalità blu come già detto fatta da un artigiano francese apposito c'erano i comandi della climatizzazione la comunicazione telefonica sonora il frigo insomma tanti comfort fra il comfort che si aveva quando la poltrona era posizionato al contrario quindi non come nella foto mostrata quando c'è il tetto aperto ma contro la marcia quindi dando le spalle al guidatore al di fronte della vettura che questo sì quando era in contromarcia c'era un tavolino che era pieghevole che compariva in posizione in maniera elettrica anche questo era tutto elettrico che riusciva a scomparire completamente nella struttura che si era stata creata per questa vettura aperta conteneva al suo tenno una tv da 17 pollici che poteva essere collegato a computer o a un lettore di odio diciamo che potremmo dire che era una vettura quasi come un mini camper da 5 metri e mezzo ecco tutto qua queste sono le informazioni che ho trovato non ho capito che tipo di motorizzazione che tralasse questo veicolo ma comunque presumo che come minimo ossiderando che nel 2006 poi hanno fatto la C6 che era un 3000 che era comunque una vettura di rappresentanza usata sempre dal capo restato come auto blu che era un 3000 sì come minimo su questa vettura c'era anche qui un 3000 da intorno ai 210 cavalli se voi riuscite a trovare informazioni su che tipo di motorizzazione montava questa vettura scrivetelo qua sotto nei commenti così facciamo condivisione di informazione io vi dico a voi e voi dite a me vi ringrazio per avermi seguito fino a qui ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti